Possiamo avviare questo nuovo incontro, questo nuovo webinar, ahi noi ci stiamo quasi prendendo troppo gusto al Bruno Leone organizzare queste cose, sia mai che ci prendiamo troppo gusto a vederci soltanto online ma stasera sono particolarmente contenta di questo incontro per vari motivi, prima perché presentiamo un libro della Liberi Libri, casa editrice alla quale sono affezionatissima e da cui provengo quindi il mio cuore è lì e poi perché ho la possibilità di rivedere un vecchio amico che è Pasquale Annicchino ma anche finalmente di potermi confrontare direttamente con due persone di cui ho letto molte cose ma non avevo mai avuto il piacere ancora di incontrare e cioè il professor Riccardo Manzotti e l'autore del libro Aldo Maria Valli. Vi do il benvenuto e do soprattutto il benvenuto anche a questa nuova pubblicazione Virus Leviatano per la Liberi Libri di Aldo Maria Valli che è appena uscita appunto per le edizioni di Aldo Canovari su cui tutti un po' qua a Bruno Leone ci siamo abbeverati. Il libro Aldo Maria Valli è un giornalista vaticanista se posso dirlo anche se il libro non riguarda se non imparte argomenti legati al rapporto tra il nostro ordinamento e da un lato il diritto alla religione dall'altro il Vaticano come organizzazione istituzionale di questo sono sicura che vorrà parlarne anche Pasquale Annicchino ma il libro è se posso uno sfogo uno sfogo e una messa al muro di tutti quanti per dirci in merito alla pandemia da Covid e soprattutto alla gestione della pandemia insomma dove vogliamo arrivare dove volete che l'autorità pubblica l'autorità politica arrivi nel dare la priorità nel decidere la vita che dovete vivere e nel dare la priorità alle vostre scelte individuali. Il tema è evidentemente quanto mai attuale ma è un tema di cui continueremo a discutere per anni e decenni anche quando la pandemia voglia il cielo sarà sarà finita perché senz'altro ha rappresentato come tanti eventi epocali un momento di sfida di laboratorio di tante teorie lo stato terapeutico, lo stato paternalistico, il principio di precauzione, tutti i fenomeni, tutti i principi, tutte idee che avevamo applicato sempre a cose molto meno invadenti nella nostra vita e che adesso invece ci ritroviamo a plasmare la nostra quotidianità e anche la nostra vita privata. Io ho parlato fin troppo, se siete d'accordo farei introdurre il libro al suo stesso autore visto che è una freschissima pubblicazione che quindi merita di essere conosciuta perché immagino che la maggior parte delle persone che ci sta seguendo ancora non ha il libro tra le mani e poi farei un giro, un doppio giro di discussione con il professor Manzotti e con il professor Annichino. Grazie, grazie Serena. Devo dire che con questo piccolo libro, con questo pamphlet, sono tornato un po' alle mie origini. Giustamente lei diceva che per tanti anni mi sono occupato di chiesa, di religione come vaticanista. Ora sono in pensione ma continuo a farlo perché certi lavori non finiscono mai. Lo faccio soprattutto attraverso il mio blog. E allora perché questa incursione nel campo, per usare un'espressione molto grossa, della filosofia politica? Perché io ho una vecchia laurea in scienze politiche nel cassetto, inizio degli anni Ottanta, Università Cattolica di Milano. Il preside della facoltà era il professor Gianfranco Miglio, che penso che a voi dell'Istituto Bruno Leoni sia piuttosto caro. E preside di facoltà, di lui ho un ricordo vivissimo. È uno di quei maestri, una di quelle persone che hanno inciso molto sulla mia formazione intellettuale. Due gli insegnamenti del professor Miglio, scienza della politica e storia delle dottrine politiche. Severissimo, durissimo, cattivissimo, con uno sguardo mefistofelico che terrorizzava noi studenti, ma veramente geniale e appassionante. Le sue lezioni erano tutte da gustare dalla prima all'ultima parola. Ricordo molto bene come ci introdusse la conoscenza di Carl Schmitt, che all'epoca in Italia era ancora semi-sconosciuto, stiamo parlando di tanti decenni fa, e che ricordo il realismo del professor Miglio nell'analizzare le situazioni, e soprattutto con quanta passione ci mise a conoscenza della teoria dello stato d'eccezione che in Carl Schmitt è così centrale. E quindi il suo insegnamento circa l'effettività del governo. Ecco, durante il lockdown, il primo lockdown, quello che ci ha costretto veramente a stare lungamente chiusi in casa, di fronte a ciò che ci stava accadendo e alla soppressione di fatto di numerose nostre libertà fondamentali, a partire proprio da quella di muoverci, Quegli insegnamenti del professor Miglio mi sono tornati alla mente e siccome mi stavo interrogando appunto su quanto ci stava succedendo, mi è venuto quasi spontaneo recuperare quegli argomenti, quei ricordi. Ed è nato così questo pamphlet, che poi Aldo Canovari, Michele Silenzi e tutti gli altri amici di Liberi Libri hanno accolto immediatamente con la consueta disponibilità e la grande amicizia che li contraddistingue. Anzi, questa è anche un'occasione per mandare veramente un abbraccio di cuore a tutti loro, a partire dall'amico Aldo. E come posso presentare questo mio pamphlet? Innanzitutto devo dire che sono un po' imbarazzato questa sera perché mi trovo in ambito accademico, a confronto con professori. Io sono un giornalista e quindi la mia opera non ha nulla di sistematico, né tanto meno di scientifico. È appunto un pamphlet che nasce soprattutto da alcune intuizioni, e da alcune emozioni che ho vissuto in prima persona e che ho sentito bisogno di esternare. Io non mi metto a ragionare sull'aspetto medico perché evidentemente non è di mia competenza a riguardo di questa pandemia. Parto dalla constatazione che di fatto, a fronte di questa situazione, abbiamo smesso di essere una repubblica parlamentare qui in Italia. Lo strumento dei decreti della Presidenza del Consiglio, questi famosi o famigerati di PCM, hanno assunto una centralità e una preminenza assolute. È un po' come se tutti noi, di fronte a quello che definisco uno stress test per la nostra società, per la nostra politica, quindi tutti noi, società civile, politica, cittadini, a fronte di questa situazione di stress avessimo proclamato e deciso che i diritti costituzionali di libertà, così come il parlamentarismo, sono dei lussi che ci possiamo permettere quando tutto va bene o non troppo male, ma che appunto diventano superflui a fronte di una situazione di emergenza, come si suoi dire. Non amo la parola emergenza, ma insomma, per capirci. Quindi ho notato la disinvoltura del governo nel sospendere questi diritti, ma anche la naturalezza con cui appunto la società, l'opinione pubblica nel suo complesso, ha accettato tutto ciò. Ne ho tratto la conclusione che un nemico della libertà può benissimo essersi detto, se è così facile, perché non rifarlo? Se è così facile togliere la libertà, privare delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti, un intero paese, un'intera collettività nazionale, perché non rifarlo? Perché non provare a magari usare di nuovo l'argomento della salute per negare la libertà e introdurre un regime di stampo totalitario? E di qui allora tante altre domande piuttosto inquietanti. Se questa situazione di emergenza si dilatasse, sino a essere presentata e percepita appunto come la normalità, che cosa succederebbe? Chi può assicurarci che in futuro un pericolo non potrebbe essere creato di proposito per determinare talune conseguenze? C'è il rischio che lo stato di emergenza in qualche maniera sia istituzionalizzato? Ecco, domande appunto inquietanti, che nascono da chi ha la passione della libertà. Evidentemente occorre rendersi conto del fatto che la libertà è molto difficile da conquistare, ma è molto facile perderla. E dunque in mancanza di questa passione, di questo gusto della libertà, ovviamente certe domande non vengono. Si dà tutto un po' per scontato. Allora, io penso che si possa dire che al nostro sistema democratico liberale, appunto di stampo parlamentare, è stata inferta una ferita, una profonda ferita, ma mi stupisco di fronte alla mancanza di reazioni. Parlo di dispotismo nel mio pamphlet perché appunto il governo ha assunto una centralità senza precedenti in un sistema come il nostro. E ha, come dire, accosto al dispotismo alcuni aggettivi. Lo definisco condiviso, che può suonare strano, perché, come dicevo poc'anzi, l'opinione pubblica, e ci metto pure la stampa in mass media, l'hanno subito fatto proprio, l'hanno assunto, l'hanno non solo giustificato, ma direi proprio assimilato. In questo senso condiviso. Così è come se avesse ripreso vita appunto il leviatano di Hobbes, di cui il titolo del mio pamphlet, questo colosso autoritario che tutto controlla in cambio di che cosa? Della sicurezza. Gli individui cedono quote della propria libertà fino a cedere interamente la propria libertà in cambio di una presunta sicurezza. È anche un dispotismo statalista perché di fatto tutto è stato demandato all'iniziativa statale, l'iniziativa privata non si è vista, i corpi intermedi sono spariti, non si è presa nemmeno per un secondo in considerazione l'ipotesi che altri al posto dello Stato avessero qualcosa da dire e da proporre. Lo Stato è stato percepito immediatamente come l'istituzione a cui demandare la gestione del caso. E poi un dispotismo terapeutico, l'altro aggettivo, perché appunto, come vediamo, la salute è diventata un assoluto. Lo scrivo con la S maiuscola, infatti, nel pamphlet. Il politico ha preso le sembianze del medico, il cittadino è diventato un paziente e la nazione, la nostra nazione, un grande ospedale. Di qui chiaramente un rapporto asimmetrico che a sua volta favorisce il dispotismo, non c'è più il rapporto tra politico e cittadino, tra rappresentante e rappresentato, che è appunto il rapporto tipico di un sistema democratico-liberale di stampo parlamentare come il nostro, ma c'è questo rapporto del tutto sbilanciato di medico-paziente e che mette chiaramente il paziente in una condizione di inferiorità, perché di fronte al medico non si discute, ma si ingoia la medicina che lui ti prescrive. E quindi un dispotismo a tutti gli effetti direi permeato da che cosa? Dallo scientismo. Al grido di l'ha detto la scienza non si discute. E infatti come sono stati giustificati i provvedimenti? L'ha detto un comitato tecnico-scientifico. Ora, su questo tante le idee che si potrebbero sviluppare e vedo che qualcosa si sta muovendo in questo senso nel dibattito. Di fatto però come dire noto una profonda ingenuità da questo punto di vista perché solo chi non conosce la scienza può sostenere che l'ha detto la scienza sia la panacea perché non è così. La scienza in realtà non ha mai risposte certe. La scienza studia, mette a confronto, analizza i dati ma rarissimamente fornisce soluzioni certe. Non parliamo poi della medicina e quindi pensare di poter ottenere dalla scienza e lo stiamo vedendo appunto risposte certe inequivocabili è un'illusione. Questo dispotismo dunque statalista condiviso terapeutico mostra però a mio avviso e concludo questa mia introduzione scusandomi se l'ho fatta un po' lunga tante debolezze. Non è non è un segno di forza ma è un segno di debolezza. Debolezza della politica intanto che appunto si è messa nelle mani della tecno scienza non avendo risposte riconoscendosi incapace di risposte e di affrontare i problemi si mette nelle mani di un comitato tecnico scientifico. Debolezza dello stesso esecutivo che si è fatto cogliere di fatto impreparato ed è diventato autoritario nel momento in cui ha tentato di recuperare il terreno perduto ma un esecutivo non deve farsi cogliere impreparato è lì proprio per mettere in atto le soluzioni a tutela dei cittadini ma possibilmente prima che avvengano i drammi non dopo. debolezza dello Stato che ha risposto con la sua tipica faraginosità e si è lasciato in gran parte comandare da organismi sovranazionali abbiamo visto il ruolo preponderante dell'OMS debolezza della cosiddetta società civile di noi tutti che appunto abbiamo con assoluta acquiescenza ingoiato questa pillola senza reazioni e infine ecco qui faccio un'incursione nel mio tipico terreno ad indagine che è quello della Chiesa ahimè devo dire da cattolico debolezza della Chiesa che si è prontamente allineata al dispotismo così come alla narrativa dominante e non ha non ha saputo dire una parola diversa dal mondo a proposito di tutto questo che ci sta succedendo se c'era un'entità che avrebbe avuto la possibilità di aiutarci ad alzare lo sguardo di aprire la nostra anima e la nostra mente a qualcosa di più grande di questa solo asfitica dimensione tecno-scientifica in cui siamo caduti era proprio la Chiesa e invece la Chiesa non si è più preoccupata non si è affatto preoccupata del nostro cammino di santificazione ma si è piegata al principio di sanificazione ecco appunto per non farla troppo lunga mi fermo qui e solo per dire infine che credo proprio che la passione per la libertà sia stata la grande molla che mi ha spinto a scrivere e a proporre liberi libri questo testo una passione che purtroppo non vedo ahimè molto diffusa grazie giudizi che si può leggere dal libro severissimi ma anche molto ma anche molto argomentati io prima di passare la parola al professor Manzotti giusto per fare un po' di pubblicità oltre che alla straordinaria liberi libri anche edil volevo farvi vedere questa cosa che abbiamo avviato dall'inizio della fase 1 bis chiamiamola così e cioè noi praticamente quotidianamente con un giorno di ritardo rispetto alle decisioni delle regioni e dello Stato cerchiamo di aggiornare questo barometro delle libertà che misura la pressione sulle otto principali libertà tra cui anche la libertà di culto dovute alla gestione della pandemia quindi alle scelte statali e regionali e ora siamo qui all'11 novembre per cui abbiamo naturalmente inserito la diversificazione per colori autunnali e c'è anche l'andamento regionale nel senso che in realtà alcune regioni per adesso la campagna in testa hanno adottato misure più restrittive ma basti pensare alla Puglia e alla alla decisione che ha avuto nello stesso giorno una sentenza un'ordinanza favorevole una sfavorevole di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado quindi è un barometro che vorrebbe appunto dare se non altro l'idea che qui ci sono tante facce di un'unica libertà in gioco che e che il bilanciamento per definizione è una cosa molto delicata sulla quale stare molto attenti e molto vigili ripeto non soltanto per le misure prese a livello statale ma anche per quelle prese a livello regionale scusate scusate lo spot ma visto che di questo si parla l'autopromozione è l'unica l'unica promozione che abbiamo professor Manzotti allora sono contentissimo di essere qua e devo dire che ho letto con grandissimo piacere le pagine di Aldo Maria Valli che sono pagine che avrei voluto scrivere io per chiarezza e lui dice di non essere un filosofo però io voglio dire che lui con questo libro ha fatto quello che i filosofi in Italia in larga misura in questi mesi non hanno fatto cioè lui ha parlato in nome dei valori in nome della persona umana in nome della possibilità di una scelta che e su questo poi tornerò però voglio sottolineare che lui è stato più filosofo per quanto può valere questa parola di quanto moltissime altre persone che hanno di mestiere questo titolo di quanto non siano state tantissime altre persone che invece occupano questo ruolo cioè lui ha dato vita alle parole in un momento in cui la discussione sui valori del vivere civile veniva messa in discussione anzi per tanti versi non veniva fatta come abbiamo accennato all'inizio in questi mesi è stato messo in discussione il valore della io dico della discussione civile perché per me la discussione civile è sempre una discussione politica nel senso più alto di questo termine cioè una discussione sui valori dell'agire e dell'esistenza quotidiana questa discussione non c'è stata non c'è stata perché di fronte alla paura di fronte al rischio si è immediatamente accettato quello che lui stesso chiama una narrazione monotematica e che io in altre sedi ho chiamato un pensiero lineare un pensiero monodimensionale cioè di fronte al rischio si sono presentati dei numeri e questi numeri si sono stati presentati come se avessero in sé il proprio significato cosa che è un'assoluta bugia faccio un esempio concreto a me mi si può dire che se io io vivo in Liguria ma lavoro dal 2004 a Milano benissimo questo comporta dei costi dei rischi io in Liguria posso avere degli affetti delle amicizie dei genitori a Milano posso avere delle altre amicizie il mio lavoro e quindi io posso correre un rischio io ho dei costi per vivere in Liguria ma i costi vanno commisurati ai valori che valore ha per me stare vicino ai miei genitori o ai miei figli o essere più vicino alla sede di lavoro questi sono valori i valori sono frutto di scelte non sono né oggettivi né soggettivi pensare di ridurre tutto al pensiero monodimensionale alla narrazione monotematica di cui parla benissimo di cui mostra la genesi benissimo nel suo libro Aldo Maria Valli vuol dire togliere alle persone la loro dimensione più autentica la persona è nella misura in cui decide nella misura in cui sceglie nella misura in cui è libera una persona senza libertà non esiste io mi ricordo che circolava una di quelle frasi terribili del mondo accademico che non si dovrebbero dire ma che circolava e credo che qualcuno l'avrà sentita che bisogna imparare a strisciare per essere sicuri di non cadere ecco questa per me è la negazione della libertà chi strisce non cade male non si fa mai male ma quella è l'esistenza del verme è l'esistenza che Luigi Einaudi descriveva definiva come la vita lurida e diceva ci sono già stati nel passato dei regimi quindi Luigi Einaudi in tempi non sospetti molti anni prima di questa vicenda quei regimi che ci hanno proposto la salvezza in terra sappiamo come sono andati a finire sono stati la negazione della libertà e la libertà è tutto per la persona allora la domanda quello che dicevamo in una brevissima discussione che abbiamo avuto prima di questo incontro prima che ci collegassimo sul webinar la cosa grave è che in questi mesi il valore della persona umana che è soprattutto il valore della possibilità di esercitare la proprietà della sua esistenza cioè scegliere i valori per cui vale la pena vivere e morire è stata messa in discussione senza che ci fosse una discussione cioè non si è discusso se effettivamente fosse il caso di abbandonare di mettere di pregiudicare di passare dalla democrazia alla democratura anche qua mi riferisco alle pagine di Aldo Maria Valli si è messo in discussione il Parlamento così non c'è più bisogno è una cosa che va bene quando siamo in vacanza siamo tutti tranquilli non succede niente un lusso si è messo in discussione il fatto che la libertà non è qualche cosa che viene concessa dal governo quando tutto va bene quando siamo in vacanza ok lascio giocare i bambini non è questa cosa la libertà la libertà è quella cosa viceversa che le persone hanno e che concedono al governo di poter esercitare in sua vece quindi è il contrario si è messa in gioco la responsabilità dei cittadini si sono trattati i cittadini come delle persone incapaci di intendere di volere come lo Stato Leviatano si è proposto come un genitore che tiene i bambini eternamente sotto tutela e che li lascia liberi di prendere delle decisioni soltanto quando queste decisioni di fatto non contano cioè cosa ci ha detto il governo in questo periodo ci ha detto voi potete decidere sulle cose che non contano una barzelletta che raccontava sempre un mio zio un fratello di mia nonno di quelle barzellette che non fanno ridere ma quindi niente di grave che diceva questo ma io in casa mia decido su tutto cioè decido su tutto quello che non conta decido sul tempo decido sul calendario decido tutte le cose che contano non posso decidere ecco questo è stato l'atteggiamento della politica nei confronti dei cittadini come è stato possibile che i cittadini abbiurassero così facilmente ai loro diritti civili io ho un sospetto due sospetti in realtà il primo che si è giocato molto sulla sfiducia tra cittadini e cittadini per cui i cittadini preferiscono abbiurare abdicare accettare di perdere le quote della propria libertà nella misura in cui vengano tolte ai loro vicini dei quali sono stati convinti non è il caso di fidarsi siamo stati martellati da una propaganda incessante l'italiano in farabutto diciamola proprio così ogni volta che apriamo la televisione ci dicono l'italiano è un farabutto non vi dovete fidare dei vostri vicini l'italiano è inattendibile non segue le leggi non segue le regole è la persona meno attendibile quindi va messo sotto tutela io quando le persone mi dicono sì ma gli italiani non sono persone responsabili io chiedo sempre alla persona che mi sta dicendo questo ma scusi lei di che nazionalità è? no io chiedo lei sarà un italiano anche lei bene allora almeno un controesempio ce l'abbiamo lei che mi sta parlando non si considera indegno di questa fiducia e lei è un italiano quindi almeno uno come a Sodoma e Gomorra che ci volevano almeno 100 giusti poi 10 poi almeno uno ci sarà almeno quello lì che mi sta parlando male dell'italiano quindi il mio primo sospetto è questa propaganda che ha fatto leva su il secondo sospetto qui esco diciamo così prendo un attimo una prospettiva più ampia poi chiudo per non togliere spazio ma vedete un argomento sul quale io sono molto sento mi sento molto appunto sul vivo è il discorso del passaggio della concezione dell'uomo e anche qui si tocca si tocca al discorso dei valori dal piano della persona soggetto capace di volontà di valori e di intenzioni e di libertà al piano del corpo e quindi la saldezza è diventata la salute e quindi la chiesa come giustamente nota Aldo Maria Valli non ha più avuto nessuna leva perché nessuno credeva più di essere diverso dal corpo quindi era inutile che si parlasse di persona come qualcosa di distinto dal corpo e quindi la chiesa si è reso conto che le sue parole cadevano nel vuoto sarebbe stata una leva che faceva forza su un punto senza consistenza perché ormai le persone si sono convinte di essere un corpo e allora e chiudo oggi c'è stato ieri anzi c'è stata una cosa gravissima che la cito non tanto per l'episodio in sé quanto perché l'episodio è il sintomo di questa deriva biototalitaria e di questa stanchezza di questa debolezza del tessuto civile che dovrebbe fare preoccupare moltissimo ieri sera una biologa Barbara Gavallotti se non mi sbaglio col nome alla trasmissione di Floris si è espressa in questi termini citando un neuroscienziato che però lì era uno pseudoscienziato nel senso che faceva affermazioni completamente prive di qualsiasi base empirica si è permessa di dire di fare un pseudoragionamento scientifico che avrebbe fatto Felici Lombroso Gallo e quant'altri dicendo che chi è negazionista cioè sostanzialmente una persona non difendo i negazionisti però una persona che ha un'opinione diversa ce l'ha perché è demente la parola demente è quella che lei ha usato in trasmissione da Floris cioè un neuroscienziato Miller che si è occupato di demenza quindi legittimamente viene utilizzato dal potere cioè dal leviatano qua alle mie spalle per dire che chi non la pensa come l'opinione prevalente non lo fa in virtù di un suo diritto di opinione che ripeto l'opinione in quanto tale può essere giusta può essere sbagliata ma lo fa perché è malato questo ci rendiamo conto che è una forma di bio neurocontrollo totalitario che è passato e che sta mettendo in discussione la nostra libertà la nostra capacità di esercitare la scelta dei valori per cui vale la pena di vivere e di morire questa è la fine della società civile e se noi non ci rendiamo conto che c'è un intreccio di interessi politici scientifici militari economici biocontrollo noi non ci rendiamo conto che questi sono è la china scivolosa dobbiamo rivitalizzare il tessuto sociale non tolgo altro tempo grazie professore Pasquale bene innanzitutto grazie all'istituto Bruno Leoni e a Serena per l'invito grazie ovviamente al nostro autore Aldo Maria Valli e grazie al professor Manzotti farò un paio di note di metodo prima se così vogliamo cioè non essendo io come si dice fra giuristi un originalista cioè non credo che il testo parli necessariamente da solo ma ogni testo va interpretato nel suo contesto e in questo caso il testo che definirei con due aggettivi sincero è importante di Aldo Maria Valli sincero perché sincero perché il testo tradisce l'emotività se così vogliamo dire si vede che dietro non c'è solo il pensiero ma ci sono anche delle sensazioni poi c'è da vedere quanto le sensazioni rispondano sempre ad argomenti razionali e lo vedremo però le sensazioni sono importanti le sensazioni determinano il nostro modo di comportarci con gli altri le sensazioni determinano il nostro modo di credere o non credere ad alcune cose l'uomo non è solo è necessariamente un essere razionale e questo è già una nota di metodo che unisce un po' i due aspetti dell'indagine di Aldo Maria Valli nel suo volume ma dicevo testo e contesto perché? perché non si capisce questo testo secondo me se non si sa mi permetterete di dirlo in maniera così semplice se non si sa chi è Aldo Maria Valli cioè chi è il nostro autore e qual è il contesto nel quale viene fuori questo libro ora io che per mestiere mi occupo anche appunto dei rapporti fra diritto e religione se vogliamo mi occupo anche molto e soprattutto di Stati Uniti e quindi so e scrivo anche su quotidiani sono benissimo chi è Aldo Maria Valli e questo ma anche l'ultimo capitolo se vogliamo quando ho fatto o meno di una trilogia entrambi da libri libri che sono come la chiesa finì 266 Giuse Maria Bergoglio Francesco Spicchi allora io penso che il lettore che vuole comprendere meglio il testo dovrebbe leggere tutti insieme questo testo virus e il virus sono i suoi campi d'indagine diciamo così quindi questo era per quel che riguarda il contesto però a mio avviso è importante è importante anche per un altro motivo che io definirei professionale se vogliamo perché Aldo Maria Valli con la sua storia di vaticanista ora io non entro nel merito lui l'ha raccontata ha reso pubblico tutte le cose che sono successe eccetera però Aldo Maria Valli lancia anche una sfida se vogliamo di metodo alla professione giornalistica perché Aldo Maria Valli che oggi non fa più il vaticanista al Tg1 per le ragioni che diciamo noi tra virgolette esperti del mestiere sappiamo probabilmente altre persone non lo sanno con Duke Inaltum che lui ha citato prima che è il suo blog appunto io credo non lo so ma credo che il suo blog farà dei numeri abbastanza importanti per quelli guarda appunto i temi di cui lui tratta soprattutto è un protagonista importante del dibattito infracattolico sostanzialmente per via dell'ospitalità che lui offre al suo blog con anche altri giornalisti alle posizioni di Monsignor Viganò che appunto sono delle posizioni molto critiche rispetto a un certo atteggiamento della Chiesa definiamo nei confronti della modernità se vogliamo utilizzare una categoria generale e che sono ampiamente riflessi nelle critiche che Valli fa in virus elediatano all'atteggiamento della Chiesa Cattolica nei confronti della pandemia rientrano perfettamente in quelle critiche che vengono mosse da Aldo Maria Valli e da chi la pensa come il nostro autore nei confronti della Chiesa Cattolica in generale sull'approccio che la Chiesa Cattolica ha oggi ma io mi sentirei di dire menzionando solo l'unica cosa tecnica cioè soprattutto dopo il concilio Vaticano II rispetto alla grandissima questione della modernità che interessa ovviamente i filosofi che interessa il giurismo ma io penso che interessa tutti interessa anche gli ingegneri gli informatici che oggi si occupano di intelligenza artificiale la grande questione del rapporto fra regione e modernità o postmodernità direbbero alcuni ci interessa tutti qualsiasi sia la nostra la nostra professione ora qual è secondo me quali sono un paio di questioni che io solleverei innanzitutto io sono molto più pessimista di Aldo Variavalli e del professor Manziotti cioè credo che loro siano troppo ottimisti cioè loro secondo me innanzitutto sia nel libro sia nei commenti del professor Manziotti innanzitutto loro ovviamente si parla di stato di biototalitarismo ora restiamo confinati all'Italia io ho avuto modo di affrontare le reazioni alla pandemia e le reazioni di gruppi religiosi alla pandemia anche in altri paesi rispetto ad altri gruppi religiosi e ci torneremo se avremo il tempo ora per quanto riguarda l'Italia immaginare Luigi Di Maio Roberto Speranza Giuseppe Conte addirittura artefico di un sistema neobiototalitario vuol dire prenderli sul serio io onestamente ho molta difficoltà a prendere sul serio le reazioni di questo governo rispetto alla pandemia che tutto mi sono sembrate come si diceva in maniera come dire abbastanza triste ma è la battuta è sempre passata quando c'era lui i treni arrivavano in orario qui quando c'era quando c'è arcuri i banchi arrivano quando le scuole hanno chiuso e quindi è questo lo stato neobiototalitario davanti a cui noi siamo di fronte io metodologicamente avrei dei problemi a inquadrare la reazione dello stato italiano come stato neobiototalitario ma semplicemente perché non sono in grado magari vorrebbero ma non ci riescono però io avrei dei problemi ad inquadrarla con quelle categorie lì cioè che sono delle categorie della filosofia politica io come dico sempre utilizzerei più le categorie del situazionismo filosofico per inquadrare le reazioni di questo governo rispetto alla pandemia ora c'è da giuristi un problema effettivo Serena Sileoni ovviamente potrà spiegarlo meglio di me ovvero il famoso decreto legge il numero 6 del 23 febbraio 2020 che appunto fu il primo dei decreti legge su cui vennero poi generati successivamente tutti i DPCM eccetera eccetera questa è stata una questione ampiamente dibattuta dai costituzionalisti ci sono stati interventi anche molto duri di amministrativisti e costituzionalisti di primo piano penso al professor Cassese ad esempio che ha fortemente criticato il governo per l'uso dello strumento del DPCM ora c'è anche un refuso interessante nel libro cioè Aldo Maria Valli scrive che c'è stato pagina 21 del libro l'uso e abuso della decretazione d'urgenza ma io direi magari ci fosse stato l'uso e l'abuso della decretazione d'urgenza perché queste cose sarebbero passate per il Parlamento il problema è che non ci sono neanche passate per il Parlamento con il DPCM tant'è vero che poi con il famoso emendamento ceccanti li hanno quantomeno costretti a discuterli lo scenario è abbastanza complesso e dal punto di vista giuridico i problemi che ci sono io penso di vederli abbastanza bene dal punto di vista delle norme sociali rispetto alle norme giuridiche devo dire che alcune reazioni hanno impressionato anche me abbastanza la classica il classico esempio che mi viene in mente è quello dei runner la famosa polemica dei runner cioè tu ad aprire anche se stavi in aperta campagna da solo avevi le persone che spigliavano dalle finestre e chiamavano i carabinieri con i signi del Sud Italia per fare un esempio e quindi per questo l'interazione fra dato legislativo e dato relativo alle norme sociali su cui la religione ha ovviamente un impatto importante perché la religione influenza profondamente le nostre norme sociali purtroppo anni e anni di positivismo giuridico ci hanno fatto credere che è normativo solo ciò che è legge dello Stato non è così non è norma solo ciò che è legge dello Stato e chiunque abbia studiato il diritto canonico questa cosa dovrebbe saperla benissimo per cui il problema dell'intervento dello Stato c'è sicuramente c'è poi il problema se vogliamo del intervento o non intervento della Chiesa Cattolica ora anche qui ci sono vari passaggi ovviamente molto importanti nel libro Valli scrive a pagina 46 ad esempio come detto prima il professor Manzotti la Chiesa si è messa a discettare prevalentemente di procedure per la sanificazione ora anche questo a mio avviso però non si capisce se non si comprende l'evoluzione cioè la Chiesa Cattolica di oggi non è la Chiesa del Cardinale Borromeo per fare un esempio come dire abbastanza chiaro ma non lo è perché non siamo in quegli anni lì sono passati 400 anni erano alla fine del 500 siamo al 2020 potremmo attenderci oggi dalla Chiesa Cattolica la stessa reazione che ebbe ai tempi del Cardinale Borromeo qualcuno direbbe di sì io penso che è difficile ma non perché non mi piace no no semplicemente per un dato di fatto sono passati così tanti anni e il passare del tempo influenza che ci piaccia o meno questo è un discorso che faremo in altra sede ma come nel nastro di Mobius diciamo l'influenza è reciproca non è solo la Chiesa che influenza il mondo ma è anche il mondo che ha influenzato la Chiesa e ci sono alcuni come Aldo Maria Valli che criticano questa cosa qui dicono la Chiesa deve come il cateco smittiano per dirla così resistere all'avanzata della modernità e porsi ad argine all'avanzata della modernità e qui ovviamente questo è un dibattito che io trovo interessantissimo che si sviluppa benissimo all'interno del mondo cattolico con le varie posizioni eccetera eccetera devo dire che anche qui si è palesato un problema giuridico abbastanza importante per quel che concerne la violazione del diritto di culto e c'è un dibattito molto forte anche tra giuristi cioè l'intervento unilaterale dello Stato per alcuni si è concretizzato in una violazione delle disposizioni concordatarie perché a detta di alcuni giuristi sarebbe stata la commissione paritetica a dover diciamo conciliare le posizioni di Stato e Chiesa mentre la Chiesa ha come scriverebbe Valli supinamente accettato le disposizioni dello Stato in materia e non ha non ha neanche reagito e anche qui ovviamente io credo si possono avere varie posizioni io ho visto ad esempio un piccolo paesino un prete della mia parrocchia che andava a dire messa in tutti gli angoli del paese non potendo dirla in chiesa e le persone alle finestre ascoltavano la messa ho visto un prete salire sul campanile della chiesa a far suonare le campane la sera e dire messa con l'altoparlante e tantissime di queste esperienze io le ho viste in tante altre parti del paese perché che riguarda l'approccio istituzionale della chiesa cattolica in quanto tale quello che alcuni giuristi hanno sottolineato ma è ma dov'è la controversia sulla violazione dei fatti lateranensi se non c'è una persona è un'istituzione che si lamenta di quella violazione perché la Santa Sede la conferenza episcopale eccetera non sono mai lamentate di una violazione dello Stato c'è stato solo un comunicato stampa poi nella secolazione seconda fase della CEI molto forte comunicato stampa che ha portato alla ratifica dei cosiddetti protocolli con le varie confessioni religiose e non solo con la chiesa cattolica qui siamo eravamo già in questione perché a un certo punto poi anche grazie alle pressioni che ci sono state si è detto bene ma vogliamo un attimo riaprire le chiese ma questo è per chi come me credo anche come Serena da anni critica un certo dispotismo dello Stato italiano mettiamola così almeno io non vedo nelle reazioni al covid dello Stato italiano una peculiarità o una ulteriore svolta autoritaria è semplicemente la conferma di quello che lo Stato ha fatto nel diritto tributario per anni col solve e trepete e quello che lo Stato italiano fa con la sua gestione della tassazione cioè stringere i ranghi in maniera autoritaria dove il cittadino diventa un suddito e poi quando va bene aggiustare le cose alla meglio è quello che lo Stato italiano fa in tutto quelli che sono i suoi domini di competenza quindi non vedo come dire un inasprimento rispetto alla questione o con una focalizzazione specifica rispetto alla questione sanitaria è vero che un'accettazione supina di qualsiasi azione dello Stato mettiamola così non in ottica della salute come sostenevano il professor Manziotti e Vali prima ma possiamo dire anche in maniera più generale in ottica del bene comune io non vorrei personalmente per quelli che sono i miei valori ci portasse da qui a Venese come abbiamo sentito più volte dire ah però vedi i cinesi come sono stati bravi eccetera perché la fascinazione e anche operazioni di propaganda politica abbastanza importanti in quei giorni ci sono state per spingere diciamo verso un modello cinese anche perché diciamo alcuni nostri rappresentanti istituzionali avevano sposato molto quella la causa la causa cinese già nei mesi precedenti rispetto rispetto alla pandemia quindi mi fermo qui perché magari poi ne discutiamo ancora di più io credo che il volume di Aldo Gavalli sia molto importante sia molto importante per ripeto ancora il contesto in cui viene prodotto e per la posizione che prende perché rappresenta posizioni molto forti e creo che Libra va molto successo quindi ha fatto bene l'editore a investire in questo prodotto sono però il resto diciamo più pessimista perché non credo che lo Stato italiano possa addirittura essere così organizzato da mettere in piedi un modello biototalitario ma non perché non vuole ma perché non ne sarebbe capace sostanzialmente e quindi spero ma soprattutto spero che il vaccino della Pfizer possa funzionare e poi noi possiamo salvare anche le nostre anime combinando in maniera diciamo così ratzingeriana scienza e fede mettiamola così io dovrei soltanto passarvi ora le domande però non resisto non resisto un piccolo inutile banale forse con me sicuramente commento però magari può anche anticipare un secondo giro giro la mia impressione è che all'inizio che lui fosse molto più severo di quanto non lo sarei io poi in realtà riflettendoci anche adesso che parlava Pasquale ho pensato che forse io sono ancora più severa di lui ma anche del professor Manzotti perché a me pare che o parliamo di gradazione appunto di obblighi da un lato e libertà valoriare dall'altro quindi non del se ma del quanto e del come oppure in realtà se si si va verso una condanna senza appello ma non non tanto della gestione in questo forse sono ancora più 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 radicale non tanto della gestione di questo momento e del nostro sistema italiano ma in generale una condanna senza appello degli stati contem dello stato contemporaneo della forma di stato contemporaneo perché o la pandemia diventa l'apice c'è il crollo dello stato di cui dovremmo renderci conto una volta usciti dal contagio che non aveva le possibilità di fare quello che si era ripromesso di fare oppure accettiamo che il 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 presupposto politico dello stato che lo stato si è dato che è quello di garantire condizioni di esistenza quello che Dante avrebbe chiamato l'ordine pubblico la pace sociale anzi e allora diventa più un problema di se e come forse arriveremo a questo forse arriveremo appunto alla prova questa la prova del fallimento proprio dell'idea di stato sociale di stato contemporaneo di stato liberale dall'emocratica come comete altro un uso in piena quello che faceva il professor Manzotti lui ha richiamato termini per me molto difficili ma che per me fondamentalmente è il discorso intimidatorio no per cui se provi a criticare anche soltanto questa gradazione allora sei fuori dalle sei fuori dalla razionalità quindi sei un pazzo fondamentalmente no questo però è un problema senza però diciamo questo non è un problema tanto di rapporto con l'autorità politica ma è un problema del rapporto tra noi tra persone informazione cittadini è un problema più orizzontale che non verticale se volete allora se volete se avete diciamo se volete commentare soprattutto il professor Annichino vi do insomma potete fare un primo giro e poi ci sono delle domande non credo che riuscirò a girarvele tutte ma due tre domande ve le volevo inoltrare io voglio prima di tutto lasciare la parola all'autore e poi vorrei aggiungere un paio di cose se possibile prego allora Valli sì grazie io parto da un dettaglio che ho visto guardando il video di Serena c'è un bimbo che ogni tanto spunta dietro che è in isolamento precauzionale perché gli ha chiuso la classe ma questo dettaglio mi fa molto piacere perché è l'irruzione della vita in questo nostro dibattito di idee che sembrano un po' sganciate un po' da tutto e il professor Annichino diceva prima che lui è più pessimista ma io che sono più vecchio non posso permettermi di essere pessimista perché sono un papà e sono un nonno e quindi voglio mantenere ancora un po' di speranza proprio per questi figli e per questi nipoti di cui anche la mia forse come dire quella che qualcuno ha chiamato mancanza di aggressività in questo mio scritto in questo mio pamphlet non ho voluto essere aggressivo proprio perché voglio mantenere questa porta aperta verso un futuro che non può e non deve essere di tipo distopico ecco in questo durante la pandemia mi è venuta voglia di rileggere Huxley il suo mondo nuovo l'ho riletto in effetti là dove lui dice che il condizionamento in questo mondo da lui immaginato avveniva di notte non so se vi ricordate mentre i soggetti dormivano attraverso la somministrazione di un certo tipo di messaggi l'ipnopedia la chiamava lui oggi il nostro condizionamento avviene tutte le sere all'ora dei telegiornali del massimo ascolto questa iniezione costante di paura di terrore attraverso anche un linguaggio bellico per cui abbiamo il coprifuoco abbiamo la battaglia abbiamo i resistenti abbiamo i combattenti e tutto ciò ovviamente ci condiziona e come diceva Manzotti senza se noi teniamo conto di questa robusta iniezione di paura e di terrore che ci sono state date fin dall'inizio ormai da lunghi mesi non possiamo ben capire le direzioni che abbiamo preso siamo veramente paralizzati dalla paura e così tutto viene distorto la paura lo sanno bene gli autocrati di tutti i tempi è il mezzo migliore per condizionare l'individuo e le collettività mi preoccupa molto ecco che passino siano date per scontate alcune idee ormai che cioè sia lo stato che viene prima della persona ormai questo è dato praticamente per scontato se ci guardiamo attorno e noi che siamo nati nel personalismo noi che invece prima mi sono quasi intenerito sentendo Manzotti citare Inaudi allora la preminenza dell'individuo la persona che viene ben prima dello stato lo stato che nasce come organizzazione dalla persona la dignità della persona qui tutta la lezione anche come cattolico posso ricordare di Giovanni Paolo II il papa della mia vita e poi un'altra idea che ormai passa come acquisita è che è consentito viene detto c'è questo verbo che nei DPCM viene continuamente usato è consentito non è consentito questo è molto preoccupante secondo me cioè ormai non è più consentito tutto tranne ciò che è espressamente vietato come dovrebbe essere in un sistema liberale ma è vietato tutto tranne ciò che è espressamente consentito e qui noi ci stiamo mettendo in una gabbia da soli con le nostre stesse mani e tanti tanti sono gli spunti veramente che sono stati offerti dai nostri due interlocutori fratto io ma lo cito anche a un certo punto nel mio librino lo ringrazio tanto per lo spunto che mi ha dato quando lui parla appunto delle cifre no di questa questo mito delle cifre noi siamo bombardati di cifre che non sono mai contestualizzate ma che ci sono rovesciate addosso ad uso proprio dell'alimentazione della paura del terrore lui cita la campagna del governo io sto a casa sarà ricordata come un esempio da scuola di come in pochissimo tempo ignoranza e paura possono cancellare il patto di mutua ragione tra cittadino e istituzione così condizionati da questo terrore il patto viene meno appunto siamo nella biopolitica e siamo nello stato trasformato nella nazione trasformata in un grande ospedale per cui tu malato tu paziente non hai più nulla da obiettare devi solo subire e ingoiare la pillola non sto a sviluppare tutti gli spunti perché sono veramente tantissimi e ringrazio i miei due interlocutori vorrei solo mettere in luce quella che ritengo una curiosità ma poi non tanto una curiosità ma una conseguenza nel momento stesso in cui la chiesa a mio giudizio ha disertato in questa vicenda perché la sua predicazione è stata tutta terrena tutta fondata sulla salute perdendo di vista il cammino di santificazione perdendo di vista l'aldilà perdendo di vista i grandi temi che una volta quando io ero piccolo al catechismo erano chiamati i novissimi morte giudizio inferno e paradiso se non ci parla la chiesa di queste cose soprattutto in momenti difficili ma chi ce ne deve parlare la chiesa non ci parla più la chiesa si preoccupa della mucchina si preoccupa dei guanti monouso si preoccupa della mascherina allora è curioso nel momento in cui abbiamo questa chiesa tutta ormai terrena tutta appiattita sulla narrativa dominante abbiamo però categorie prettamente di stampo religioso che vengono reintrodotte che allontanate dalla porta rientrano dalla finestra abbiamo una trinità di fatto scienza salute e sicurezza non parliamo d'altro se voi uscite è andata al supermercato ha orecchiato un po' i discorsi delle persone ormai non si parla d'altro la scienza ha detto il comitato tecnico scientifico ha detto la nostra salute cosa devo fare per essere in salute per evitare questo virus la sicurezza la mia sicurezza la paura dell'altro il distanziamento sociale questa è la trinità che ci viene imposta abbiamo il peccato la chiesa non parla più di peccato al massimo parla di fragilità umane ma invece qui il peccato è stato reintrodotto non collaborare con le autorità statali contestare i provvedimenti e aderire a un'altra narrativa che non sia quella dominante fa di te un peccatore prima il professor Manzotti citava la pseudoscienziata che dava del demente a chi non ci sta a questo siamo arrivati ormai a parte il fatto di essere definiti negazionisti che trova una cosa infame perché il negazionismo richiama la negazione dell'olocausto e ti viene appiccicata questa etichetta terribile per fare di te appunto lo scomunicato e qui abbiamo appunto anche lo scomunicato tutti noi che abbiamo una narrazione che non aderiamo a questa narrazione o perlomeno ci poniamo dei problemi siamo letteralmente scomunicati la chiesa non scomunica più nessuno in compenso questo nuovo regime scomunica tutti i giorni tutti coloro che non ci stanno come avrebbe detto Prezzolini scomunica gli apoti quelli che non se la bevono che non sono disposti a bersela questa narrazione perché ancora hanno un barlume di ragione e di amore della libertà e abbiamo le sacre scritture le sacre scritture in una chiesa che ci dice attraverso un suo alto rappresentante ma al tempo di Gesù non c'era il registratore noi non sappiamo veramente cosa disse Gesù e questo l'ha detto il generale dei gesuiti in una chiesa che ragiona e procede in questo modo abbiamo oggi invece le nuove sacre scritture che sono i mass media allineati alla narrazione dominante sono i telegiornali sono i grandi giornali che non ci danno le notizie che non sono funzionali alla narrativa e abbiamo tutti i giorni la richiesta di convertirci tu peccatore tu che rischi di essere scomunicato devi convertirti a che cosa? alla tecno scienza l'ha detto la scienza lo dice il comitato tecnico scientifico convertiti credi e se non ci credi sei fuori e vai letteralmente scomunicato vai all'inferno in questo inferno laico laicista sarebbe meglio dire in cui finiscono i reprobi i peccatori i cattivi i dementi appunto questa io credo che tutto ciò configuri uno scenario preoccupante ma al di là degli aspetti giuridici io poi non sono un giurista quindi ma anche di filosofia politica è sconsolante è sconsolante vedere come stiamo ci stiamo auto privando della nostra umanità per diventare marionette chi tira questi fili io non lo so evidentemente ma chi può dirlo chi può dirlo sono convinto anch'io che i nostri governanti non possano essere equiparati a nessun come dire coloro che tirano i fili non sono certo questi ma insomma sta di fatto che la nostra umanità è in gioco allora se vogliamo salvarla poniamoci almeno alcune domande e facciamolo facciamolo ciascuno nell'ambito in cui si trova in famiglia nel lavoro tra gli amici cerchiamo di gettare l'acqua al che amo e soprattutto di non lasciarsi condizionare da questa paura da questo terrore mortifero che che ci spossessa ci toglie non solo la speranza ma direi proprio la razio ci toglie la ragione ecco per ora mi fermo qui scusate se mi sono preso del tempo per questa replica professor Manzatti allora intanto devo dire che l'autore Valli è estremamente gentile nel suo modo di porre le sue tesi le sue sensazioni le sue posizioni ma il suo testo è uno dei testi più forti che ho letto recentemente quindi i suoi giudizi e le sue analisi sono estremamente energiche presentate con grande garbo e grande gentilezza però di grande forza e io devo dire di essere completamente d'accordo con lui volevo sottolineare che nel libro non è che si parla particolarmente forse ho dato un'impressione sbagliata non è che si parla tantissimo o moltissimo di biocontrollo questo è più una conclusione che ho tratto io però a essere preciso per rispondere a Nichino io non ho detto che i nostri governanti di Maio e compagnia Conte compagnia sono diciamo così i mastermind di un piano di biocontrollo ho detto che nella società civile italiana e non solo italiana ma anche mondiale il fatto di non concepirsi più come soggetti dotati di libertà e di capacità di scelta dei valori per cui vale la pena vivere e morire crea un terreno fertile su cui poi i veri attori di biocontrollo i veri attori capaci di sfruttare questo cambiamento di valori questo cambiamento del clima politico e civile mondiale quindi di cui l'Italia però è un buon rappresentante è un buon letto di prova su cui poi troveranno le condizioni ideali cioè è come dire se alla fine dell'ottocento c'è un diffuso antisemitismo in Europa alla fine dell'ottocento non è che ci sono già pronti i campi di concentramento però se tutti gli europei accettano di pensare come normale una posizione di tipo antisemita prima o poi arriveranno le condizioni per cui qualcuno non Di Maio ma qualcun altro a livello mondiale sfrutterà questo clima culturale politico e sociale per far leva su quest'idea allora se noi ci concepiamo come Marionet quindi su Di Maio mi permetto di fare una battuta cioè il rasoio di Anlon il rasoio di Anlon non è il rasoio di Ockham il rasoio di Anlon dice non non attribuiamo mai alla malizia quello che può essere spiegato dalla stupidità o dall'incompetenza quindi limitiamoci a quello però io non mi riferivo tanto ad una diciamo così posizione attiva in questo senso del biocontrollo da parte dei governanti di oggi dell'Italia quanto piuttosto al fatto che nel momento in cui le persone gli italiani gli europei gli americani si concepiscono come corpi privi della capacità di scegliere i valori per cui vivere lo diventano se io non credo più al libero arbitrio non sono più libero se io non credo più di essere un soggetto capace di scegliere i valori per cui vivere io divento un automa William James a proposito del libero arbitrio diceva come primo atto di libero arbitrio io credo decido di credere nel libero arbitrio e perciò stesso lo fondo nei commenti ho visto che qualcuno ha detto che io sono un po' astratto ma per forza sono astratto sono un filosofo il compito dei filosofi è cercare di guardare le cose dal punto di vista più astratto e generale possibile quindi non la prendo come una critica la prendo come diciamo un riconoscimento del fatto che sto facendo il mio mestiere sarebbe come accusare un matematico di essere astratto vuol dire è il suo mestiere cogliere i principi generali nel caso particolare e aggiungo una cosa anche per quanto riguarda la Chiesa dice Valli una cosa molto giusta che un pochettino mi sembra che Anichino non fosse d'accordo ma secondo me è molto giusta cioè se la Chiesa diventa sociologia della religione non è più Chiesa poi possiamo discutere giustamente Anichino dice non sono più i tempi di Carlo Borromeo ha ragione forse non sono più i tempi della Chiesa forse la Chiesa è finita ma se la Chiesa si riduce a sanificazione delle mani a igiene a state attenti non prendete freddo forse non è più cioè la Chiesa ci deve dare una prospettiva sui valori trascendenti del vivere umano se non ci dà questa prospettiva io non capisco che bisogno abbiamo di avere la dimensione religiosa se la dimensione religiosa non è proiettata sui valori in una dimensione trascendente e per finire l'ultima cosa che volevo toccare che secondo me questa deve essere molto chiara e va ribadita sono sintetico Serena vedo che ti preoccupi che sono sintetico la democrazia il sistema liberale non è un mezzo è un fine non deve essere visto come il sistema di governo che noi scegliamo perché ci permette di stare più al caldo di essere più ricchi o di raggiungere determinati obiettivi di carattere economico materiale per me da filosofo il sistema lo Stato liberale la democrazia è un valore non è un mezzo poi come tanti valori mi consente poi di arrivare anche ad altri risultati ma soprattutto la possibilità di vivere in un sistema politico in cui io sono considerato un soggetto capace della capacità di esercitare la mia esistenza cosa che è la libertà se noi riduciamo la nostra esistenza a numeri ma noi non siamo più persone se voi mi dite c'è lo 0,2% 0,6% di probabilità di prendere il virus chi decide se lo 0,6% è tale da mettere in discussione il valore per esempio di vedere i miei genitori anziani quello è un valore lo 0,6% è un numero sono cose diverse l'aggancio tra numeri che sono l'oggetto della scienza e della tecnologia e i valori che sono ciò per cui si vive non è mai automatico è sempre oggetto di una scelta libera ed è sul valore di questa scelta libera che si appoggia alla società liberale lo stato liberale la democrazia occidentale e non è mai e non la troviamo nei libri di fisica biologia e nei manuali della sanità nei testi di biologia e delle neuroscienze e questa è la cosa fondamentale ed è secondo me l'elemento che ha mosso mi permetto di dare un'interpretazione che ha mosso la sensibilità di Aldo Maria Valli nel descrivere quello che ci è successo cioè si è messo in discussione il punto nodale su cui si poggia la libertà delle persone e per questo motivo per me il libro di Aldo Maria Valli è un libro fondamentale unico in questo momento in Italia grazie Pasquale guarda sarò rapsodico sarò rapsodico e non coerente negli interventi però giusto un paio di flash se così vogliamo dire allora a me sembra che la struttura e il metodo di Aldo Maria Valli poi andremo nel merito tenga il problema è che nei dibattiti sociali noi ormai soprattutto fra quelli che si occupano di scienze sociali ormai la religione la escludiamo totalmente perché non è rilevante dal punto di vista di metodo Aldo Maria Valli invece per formazione interesse e convinzione prova a metterle insieme perché il grande problema o uno dei grandi problemi delle società occidentali emerge sarà infelice di questo il professor Manzotti ma i dati del più forum pubblicati qualche settimana fa alla domanda è necessario credere in Dio per essere una persona morale mentre la maggior parte dei paesi del mondo rispondono di sì soprattutto i paesi più giovani del mondo l'Europa occidentale è in maniera sempre crescente anche gli Stati Uniti rispondono di no questo è in maniera più ampia il fenomeno che noi chiamiamo della secolarizzazione cioè di marginalizzazione del religioso nelle vite private e nelle decisioni pubbliche che è uno dei grandi nodi di che cosa è diventata la società occidentale oggi sui quali tutti siamo chiamati a confrontarsi scienziati giuristi filosofi giornalisti eccetera avremo occasione forse in un altro webinar di confrontarci su quello una nota rispetto al linguaggio giuridico che Valli sottolineava prima anche lì io sono più pessimista di Valli perché Valli dice ah ma nel DPCM c'è scritto è consentito non è consentito no non c'è scritto solo è consentito o non è consentito in alcune in alcune DPCM ormai abbiamo perso il conto i numeri quindi non ricordo quale forse penultimo il terzultimo c'era anche l'espressione è raccomandato lo dico io scusami Pasquale perché ho fatto il conto perché ci ho fatto un articolo nel penultimo quindi quello prima delle fasce arancioni per 11 volte per 11 volte di cui per 4 o più volte è fortemente raccomandato allora benissimo perché è un'espressione linguistica molto importante che dice molto ripeto ancora l'aggettivo che è stato prima del situazionismo italico del situazionismo giuridico a cui io facevo riferimento perché mentre in un pese normale le cose sono vietate o non vietate in Italia noi spesso assistiamo all'espressione vediamo l'espressione è severamente vietato ma qual è la distinzione fra è vietato ed è severamente vietato solo diciamo l'applicazione delle norme in un contesto sociale quale quello italiano può generare una differenza fra è vietato ed è severamente vietato così come è fortemente raccomandato questi aggettivi nelle tecniche di drafting legislativo dicono molto del contesto sociale in cui la norma giuridica si va o si dovrebbe calare se così vogliamo e poi è stato ripetutamente appunto menzionata nei due interventi precedenti questa questione del credere in cosa crediamo credere non è usato solo in senso religioso ma in senso più ampio credo valoriale fosse usato ora in uno dei dei suoi libri Aldo Maria Avalli lui mi dirà quale perché non ricordo faceva questa non in verus levietano ma in uno degli altri questa espressione rispetto all'espressione utilizzata spesso da Papa Francesco come la chiesa come ospedale da campo e lui criticava questa espressione perché diceva ma come la chiesa per secoli ha costruito gli ospedali veri eccetera ora siamo ridotti alla chiesa ospedale da campo ma io vorrei come dire da cattolico ma anche da studioso vorrei tornare e per ribadire la conclusione che ho fatto prima ad una chiesa che costruisce gli ospedali importanti una chiesa che lavora anche sulla scienza e oltre a lavorare sulla scienza lavora anche alla salvezza delle anime io credo che possiamo tenere insieme queste due dimensioni senza diventare necessariamente ipercritici del dato scientifico che comunque c'è perché i morti noi negli ospedali li vediamo i problemi delle famiglie che sono infettate dal covid noi li vediamo certo non basta occuparsi solo di quello non deve esserci la monotonia solo di quello perché ci sono tanti altri problemi un problema importante che tutti noi saremmo chiamati ad affrontare ovviamente oltre il bilanciamento tra tutela della salute e diritti civili e anche il bilanciamento fra iniziativa e impresa economica e tutela del reddito e del sostenimento delle famiglie con tutela della salute tutte queste sono operazioni di bilanciamento che a livello politico e legislativo noi saremmo chiamate ad affrontare grazie grazie Pasquale io volevo sintetizzare un po' le domande e i contributi che sono venuti dalle persone che ci stanno ascoltando mi pare di intendere che ci sono due tipi di interventi alcuni interventi si soffermano su quello che voi avete già sottolineato e cioè gli dei terreni degli scienziati e la dea scienza che si sono fatti strada anche per un arretramento del sentimento religioso e della chiesa su questo appunto ci sono stati alcuni commenti che credo vanno in linea con quanto avete detto quindi la salvezza del corpo che ha soppiantato un po' la salvezza la premura per la salvezza delle anime e che trova radice anche nella nella crisi della chiesa quantomeno come maestra di vita e poi invece un'altra categoria di interventi che dicono va bene teoricamente i vostri discorsi ritengono però guardando alla realtà della situazione che stiamo vivendo che cosa che cosa dovrebbe fare secondo voi secondo c'è un intervento una domanda che dice secondo una teoria liberale del governo un governo nelle condizioni attuali li sintetizzo un po' così forse forse il professor Manzotti specie su questa seconda vuole parlare per te sarò sintetico rapsodico come anichino mi è piaciuto molto il termine allora uno vorrei aver dato un'impressione sbagliata io non è che difendo per forza il ritorno alla religione come elemento dominante è un ragionamento logico che io faccio è un ragionamento assolutamente logico cioè la religione se esiste deve fare il suo mestiere altrimenti diventa sociologia della religione e possiamo anche escludere può anche non esistere attenzione non è che io difendo la sua esistenza quindi la mia posizione non aveva alcuna predisposizione in questo senso al volo invece sul discorso del che cosa dovrebbe fare uno stato in questo caso beh in ogni momento c'è la possibilità di prendere una decisione e le decisioni sono sempre politiche c'è freddo allora io brucio la casa per tenere il nonno al caldo forse non è una scelta corretta quello che voglio dire è che in ogni momento è possibile fare una scelta di valore l'esistenza umana è fatta sulla base di ciò che noi pensiamo abbia valore voi pensate e questo non ha niente a che fare con la religione questo è la differenza tra valori e diciamo così informazioni le informazioni mi servono che sono il dominio della scienza la conoscenza scientifica oggettiva mi consente nel modo migliore di raggiungere i miei valori ma non mi dirà mai quali sono i miei valori se io mi innamoro di una persona voi mi potete cercare di convincere fino allo sfinimento Riccardo guarda non va bene che tu ti innamori di quella persona ti costerà un sacco di soldi ti creerà dei problemi ma io sono innamorato l'amore è un valore se io penso che la libertà è un valore io sarò pronto anche a morire a perdere i miei soldi a perdere la mia salute ma difenderò quel valore perché? perché l'essere umano è fatto di valori non è fatto di corpi non è fatto del suo portafoglio poi certo se l'essere umano liberamente decide che il suo valore è il suo portafoglio o la sua salute o il numero di giorni che vuole stare al mondo va benissimo ma quanti esseri umani hanno deciso a prescindere attenzione non è un discorso religioso a prescindere dalla religione che per loro le cose che valevano erano altre ma Cristoforo Colombo quando è andato negli Stati Uniti ha chiesto quanti posti letto c'erano sulle tre caravelle cioè in ogni momento l'essere umano è i valori per cui lui decide vale la pena di stare al mondo se noi andiamo a chiederlo alla scienza o al ministero della sanità se noi accettiamo che i ministeri dei corpi economia sanità e interni si sostituiscono al Parlamento anche di questa cosa se ne parla forse qui abbiamo parlato troppo della religione ma il fatto che il Parlamento sia venuto meno di fronte al governo è un segno del venire meno della possibilità delle persone di far valere i loro valori quindi che cosa deve fare lo Stato in questo caso? Non deve certo uccidere i suoi valori e credo che se il Parlamento e lo Stato e i cittadini sono persone ragionevoli avranno dopo la prima settimana 15 giorni il primo mese i primi due mesi di agitazione di rifronte a qualcosa di inaspettato avranno le risorse per poter decidere attraverso un percorso di libera discussione politica e civile che cosa loro reputano sia il caso di fare di fronte ad una situazione di emergenza questo non è stato fatto si sono salvati anche neanche tanto bene i corpi devo dire perché se guardiamo l'indice di mortalità non è che questo sacrificio della democrazia sia stato fatto per salvare i cittadini in misura statisticamente superiore a quanto è avvenuto in altre nazioni senza quindi è stato fatto senza che il sacrificio della democrazia in democratura secondo me sia stato si doveva salvare la democrazia e siamo ancora in tempo di farlo ma non mi sembra che lo stiamo facendo io sento una stanchezza del tessuto sociale un abbandonarsi assistiteci salvateci siamo pronti a tutto che ci importa? grazie professor Manzotti sul completo diciamo l'altro gruppo di domande sul declino della chiesa dell'importanza della chiesa perché alcuni fanno anche riferimento al fatto collegandolo anche a quello che diceva adesso Manzotti che in fondo questa questa democrazia questa abdicazione della dell'istituzione al loro ruolo a partire dalle opposizioni un po' ce lo meritiamo nel senso non esclusi presenti in realtà la maggior parte sono le persone che vogliono protezione anziché libertà sicurezza e cura del corpo anziché cura delle anime le chiederei un intervento finale su questo chi parte no no è per Valli e quanto abbiamo perché vedo che l'ora si è fatta un po' tarda quindi chiedo anche quanto abbiamo a disposizione diciamo andiamo verso l'orario di cena degli anziani e dei bambini quindi ci sono veramente tantissimi spunti mi fa molto piacere che il professor Manzotti parla di valori questa parola così svalutata e assente devo dire nel dibattito attuale che è appunto tutto numerico e io penso la domanda che fare è sempre la più insidiosa ovviamente ma io dico il governo deve governare il verbo governare mi fa venire in mente la famiglia io sono un papà appunto dice un nonno che cosa fanno un papà e una mamma che governano la loro famiglia prima di tutto ecco la riflessione di Manzotti partono da alcuni valori cioè che cosa mi sta veramente a cuore per me per la mia sposa per i miei figli per i miei nipoti che cosa conta veramente e da lì derivano le decisioni in campo educativo in campo economico le scelte familiari di tutti i giorni ma partono dai principi che sono che sono l'essenza stessa della nostra vita senza questa riflessione preliminare non possono esserci non c'è governo che tenga allora ogni governo deve aver ben presenti i principi fondamentali noi abbiamo questa bellissima costituzione che definiamo sempre bellissima poi la calpestiamo in continuazione e l'articolo 1 repubblica democratica fondata su che cosa sulla salute fondata sul terrore fondata sulla paura fondata su un governo paternalistico che ci deve tutelare fondata sul lavoro i nostri padri costituenti si sono confrontati a lungo su questo articolo e hanno deciso poi di puntare sulla parola lavoro perché è ciò che dà la dignità alla persona e ciò che le assicura la dignità che le dà un ruolo attivo nella società che le permette di essere titolare di diritti dal punto di vista ovviamente laico qui non entro nell'aspetto religioso il lavoro invece noi vediamo che in questa situazione il lavoro come è stato ed è calpestato la gente perde il lavoro le famiglie si impoveriscono il lavoro è stato assurdamente colpito da provvedimenti che hanno sparato nel mucchio senza andare a verificare la reale situazione il lockdown è una sorta di fuga io la chiamerei così è una fuga nella caverna l'uomo primitivo di fronte alla fiera non avendo risorse cosa fa? Scappa e si rifugia nella caverna il lockdown è qualcosa di simile non c'è un principio ispiratore non c'è un valore c'è solo la fuga il rifugio immediato in preda al terrore ma questo un governo soprattutto se è un governo liberale democratico non se lo può non se lo deve permettere ne va di mezzo la dignità delle persone ne va di mezzo la dignità della nazione stessa e stiamo pagando prezzi altissimi a questa visione direi appunto primitiva e poi vorrei dire anche spendere una parola per il Parlamento mi sembrerà strano che lo dica un cattolico ma io non sono soltanto un figlio della Chiesa sono anche un cittadino di questa nazione e il Parlamento dal punto di vista da un punto di vista laico è un luogo sacro perché lì ci sono i nostri rappresentanti che noi eleggiamo e noi i nostri padri i nostri nonni si sono battuti per questo non sono cose scontate che esista un Parlamento che esista una rappresentanza in tante parti del mondo se lo sognano e noi non possiamo darlo per scontato o peggio ancora calpestare il nostro parlamentarismo come sta avvenendo ora a maggior ragione dopo un referendum che ha deciso indebolendo ancora di più il principio di rappresentanza di diminuire i parlamentari il numero dei parlamentari la sacralità di questo luogo ci impone di ricordare che lì noi siamo presenti tutti attraverso i nostri rappresentanti infatti i deputati sono i rappresentanti della nazione non dello Stato quando noi diciamo nazione diciamo un popolo un etos una comunità lì siamo noi per interposta persona e questi nostri rappresentanti cioè noi stessi sono stati completamente saltati quindi siamo stati saltati noi stessi come se non esistessero o peggio come se fossero un intraccio sulla via dei provvedimenti da prendere di fronte a una situazione che ho definito di stress test cioè di di difficoltà del paese della nazione allora in questo modo noi annulliamo noi stessi e tutto ciò ripeto è molto grave perché costituisce anche un precedente di questo passo noi ci abituiamo all'idea che tutto ciò sia superfluo mentre generazioni di persone si sono battute hanno giocato le loro vite hanno perso le loro vite per arrivare a questi strumenti che ci siamo dati appunto di rappresentanza e di articolazione sociale e politica il fatto che tutto ciò avvenga e che sia dato per scontato mi fa mi rende molto triste molto molto triste allora ecco ripeto ciascuno nel proprio ambito dica una parola ricordi che la libertà non è mai scontata è difficile conquistarla è facilissimo perderla ricordi che il Parlamento non è scontato che la rappresentanza non è scontata e di fatto la stiamo perdendo il principio di rappresentanza è già notevolmente indebolito ecco credo che tutto ciò se da un lato appunto ci procura tristezza però ci deve anche spingere a una reazione una reazione che va giocata ciascuno nel proprio ambito ciascuno con i propri mezzi ma che ci deve vedere di nuovo protagonisti non possiamo essere un paese di anime morte sottoposte a questa narrazione del terrore imploranti imploranti nell'aiuto che piove dall'alto da parte dello Stato no tu Stato esisti in funzione mia sono io che ti faccio esistere sono io persona che faccio esistere quindi non c'è niente da implorare ma c'è da rendersi di nuovo protagonisti mi rendo conto che dicendo queste cose faccio ricorso ad alcune espressioni che erano quelle di quando ero giovane anni 70 del secolo scorso il soggetto protagonista ormai questo linguaggio non si usa più ma non riesco a dirlo in altro modo in questo modo io denuncio anche la mia età non riesco a dirlo in altro modo ma cerco di dire che occorre ritrovare in noi stessi la forza per tornare a essere persone tornare a essere vir la parola vir che assomiglia paradossalmente così tanto a virus noi adesso siamo condizionati da questo virus che ci terrorizza invece recuperiamo il vir il vir è l'uomo la virilità dell'esistenza che comporta il coraggio il vir non è soltanto l'uomo il senso maschio è l'adulto non facciamoci trattare da bambini stupidi che hanno bisogno di essere tutelati dall'altro il vir è l'uomo adulto e mi fermo qui credo che ci fermiamo tutti qui anche perché dopo questo intervento qualsiasi altra parola sarebbe loro venirebbe insomma anche nell'accurato appello a fare così a tenere alta la la soglia di vigilanza ognuno nella propria vita che poi senza fare gli eroi della storia ma semplicemente appunto i i vir nel nel proprio cerchio di vita e di quotidianità io ringrazio tantissimo per la chiacchierata credo anche chi ci ha seguito ho visto interventi appassionati ma credo che comunque anche alle domande sia stata data indirettamente risposta quindi ringrazio Aldo Maria Valle ringrazio la Liberi Libri che ha ospitato questo suo libro Virus e Leviatano appena pubblicato e ringrazio anche chi che ha discusso di questo libro con l'autore cioè il professor Manzotti e il professor Anichino vi saluto vi auguro una buona serata e al prossimo webinar grazie davvero grazie a tutti grazie buonasera grazie a tutti grazie a tutti